In un super vertice a Palazzo Grazioli, Berlusconi mette a punto il discorso sulla crisi economica che terrà domani al Parlamento. All'incontro partecipano anche i ministri leghisti Maroni e Calderoli. Il testo viene limato fino all'ultimo insieme al ministro dell'economia Giulio Tremonti. Il passaggio è delicatissimo visto che il premier parlerà a mercati aperti. Tre i punti salienti. Il primo è teso a rassicurare cittadini e piazze finanziarie. Il secondo è rivolto alle parti sociali e all'opposizione. Il terzo, quello più politico, mette in guardia le minoranze dalla tentazione di scorciatoie che, secondo il premier, sarebbero contro l'interesse del paese. Per il presidente del Consiglio l'allarmismo sull'Italia è eccessivo, i fondamentali dell'economia sono sani, il governo è solido e la maggioranza ha dimostrato più volte di avere i numeri. Sulla sfida lanciata dalle parti sociali il Cavaliere vuole rispondere con il rilancio di un patto per la crescita, puntando in particolare sulla riforma del fisco, sul piano per il sud e la riforma del lavoro. Nessuna concessione però alla richiesta di un passo indietro. Per Berlusconi la stabilità politica è indispensabile contro la speculazione, le opposizioni quindi rinuncino all'idea di governi tecnici. Il presidente della Repubblica continua a seguire con attenzione la situazione. Prima di lasciare Roma nel pomeriggio per una breve vacanza a Stromboli, Napolitano ribadisce nuovamente la sua preoccupazione per l'andamento dei mercati finanziari e dell'economia. In una nota il Quirinale chiede un'integrazione delle decisioni sui conti pubblici, invitando ancora una volta le forze politiche e tutti i rappresentanti sociali al confronto, per stimolare decisamente l'indispensabile crescita dell'economia e dell'occupazione. L'opposizione insiste nel chiedere le dimissioni dell'esecutivo, sull'esempio del leader spagnolo Zapatero, e attende il premier Alvarco. L'unico gesto che potrebbe avere un effetto positivo sarebbe politico e la convinzione del segretario PD Bersani, che in aula chiederà a Berlusconi di andarsene. Mentre per Di Pietro l'unica ricetta anticrisi sono le elezioni anticipate, Casini chiede misure concrete e non parole. In una giornata attesa e difficile c'è stato spazio anche per un giallo sulla presenza in aula domani dei deputati leghisti fedeli a Maroni, sintomo dei malumori che serpeggiano nel carroccio. Lo stesso ministro dell'interno è però sceso in campo per smentire defezioni e ha annunciato che durante il discorso sarà seduto a fianco del premier.